Salve a tutti ragazzi bentornati su Jolly Show Oggi incredibile Iniziamo non una serie però diciamo Iniziamo con dei nuovi video su un nuovo videogioco Cioè non è nuovo però per il mio canale è nuovo Sì ragazzi ho acquistato Call of Duty Black Ops 3 Nel Black Friday però me lo sono voluto tenere fino a Natale Forse lo dicevo anche in un video ma non sono troppo sicuro Allora ragazzi cosa faremo in questo video? Niente direi visto che ho anche iniziato da poco Però mi sto trovando abbastanza bene Ora non vorrei dire frasi eccessive perché poi mi porto sfiga Quindi ragazzi facciamo un deathmatch di quelli tranquilli E vediamo un po' come andrà Comunque ragazzi sappiate che sono in vacanza Questo video l'ho registrato un po' prima di andarci Quindi ricomincerò seriamente diciamo da No non molto però da dopo il 10 gennaio insomma Forse ci sarà questo video e un altro Non di Black Ops 3 ma non vi posso confermare nulla al momento Va bene ragazzi forse Non forse Forse la madonna Riusciamo ad iniziare questa partita Sto al boom bitch No non ci credo che fail Che bello ragazzi Siamo Ho fatto tipo solo un assist al momento Ma va bene così Te però muori Solo assist Solo assist Che bello Oh finalmente la nostra prima uccisione signori No ok Madonna Ma che è sta cosa Ma che cazzo Madonna mia ragazzi Se al più pro di così Si vive Oh ma come assist Ma dio Ma assist Solo assist Oh un uccisione l'ho fatto E la torretta infame Oh su Ok Oh Oddio Prometheus No Guarda sto lezzo Guarda sto Stolezzino Sudicio Mamma mia Come sono sopravvissuto Fermi fermi Potrei mettere la pistola Oddio Che classe No Oh la pistola mi salva sempre No porca miseria Stavo per dire merda Però volevo fare quello fine Eh Abbiamo vinto Di tre punti È stata pure buona Dai come partita Con il mio fantastico Contributo di sei uccisioni Però ho fatto un botto di assist Quindi Dovrebbero ringraziare tutti Minchia Come 203 Oh che è sta cosa Oh fermi Che è sta roba Oddio mio Cioè tipo Notarei differenze Mi sento un barbone Comunque ragazzi Siete arrivati a questa parte Del video Cosa che spero Vi volevo dire Che se volete Diciamo Rimanere Aggiornati Su Cosa faccio Oh Oddio Ho ucciso Ho ucciso lui Ho ucciso lui Oddio 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 Non ci credo mai L'ho ucciso Ho ucciso quello Con livello più alto Ragazzi 150 like ora Subito Ho ucciso il cecchino 190 like Comunque dicevo Se volete rimanere un minimo aggiornati Seguitemi sui social Se su facebook Che su instagram E niente Basta Ah poi Niente ragazzi Vi voglio anche chiedervi Madonna ragazzi Cosa sto facendo Dicevo Volevo anche chiedervi Diciamo Di dirmi Quale modalità Volete che porti Poi nel prossimo video Di Black Ops 3 Ne approfitto Non so quando caricherò Questo video Però ragazzi Buon 2017 A tutti Il Natale è già passato Ma va bene così Mi sa che qui Devono mettere un po' D'acqua calda Per togliere il ghiaccio Ma Giusto due gocce Oddio Che kill epica Eh lezzino Lezzino Guardalo lì No Porca miseria Zoppa Eh vabbè Sì Mi circondano Basta Mi lasciate vivere Mannaggia a voi Sti bombardamenti Ti ho proprio rotto Le palle Oh barca merda Eh dai Oh Ste palle hanno rotto Proprio i coglioni No Ho perso di 20 Ultima partita Del video Vediamo se riusciamo A vincere O perdere E magari Morire un po' Il meno possibile Perché mi sono rotto Le palle Di morire Come uno Scarafaggia No Porca miseria Dai però L'avevo colpita io Quella Ma si tranquilli Tanto io sono entrato In gioco Solo per Per morire Non è che volevo Anche uccidere Qualcuno Anch'io Tranquilli Oh Dio mio Ma basta Dai Che sfiga Quello col fucile a pompa Sulle scale No Cioè Sei proprio Infame Ma forte Clear Vai Entra Rompi Blizzoni Blizzoni Incazio Eh vai Un altro fuori L'abbiamo fatto Un altro Oh Fermi Fermi Non ci credo No Mamma mia Te l'ho Tutto il cazzo Sentite Ora basta No Madonna Quello lì Sulla cascata Se non gli prende Lo spigolo Nel mignolo Quando si alza La sera Per andare a bere Mentre dorme Guarda Non lo so No Doi Madonna 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 Facciamo un po' di punti Madonna Quello Quello Come ha la mamma Che lavora in tangenziale Guarda E guarda Lui Lo sa Vabbè ragazzi Mi sa che Questo video Come avete visto Ha fatto Vagamente schifo Perché Se no Non sono io Soprattutto Vabbè Devo ancora un po' Imparare A Adattarmi a Black Ops 3 Comunque ragazzi Credo che per questo video Possa essere tutto Buone vacanze a tutti Un calore Affetto Un saluto A Jolly Show Scrivetevi I miei social Se non Tenete un po' Iscriviti Scheleti Ciao Vabbè Scriviti